Oh, ma che fortuna! Bene, quando iniziamo? Che ne dici di adesso? Una ragazza un paio di anni fa è rimasta vittima di un tragico incidente che le ha distrutto il volto e noi speravamo che lei acconsentisse a... Volete strappare il viso a mia figlia e trapiantarlo su di lei? Stesso sesso, colore, super giusto, stessa età gruppo sanguigno e antigeni compatibili più un mucchio di altre cose che ne fanno la perfetta donatrice e sua madre mi ha appena firmato la sua autorizzazione a procedere La donatrice è in rianimazione ma ha il cuore compromesso quindi abbiamo le ore contate Diamo a Molly un viso nuovo